Il coronavirus è solo l'inizio, il principio di una più grande tribolazione. Gesù ha profetizzato una grande tribolazione antes che regrese il coronavirus. Questo è un messaggio da Sisi, la città di San Francisco, un messaggio profetico, una vacuna contro il coronavirus. Eccoci, questa vacuna contro il coronavirus è la migliore vacuna.